Ciao, da Autoriparazione NovaCard, la migliore amica della tua auto. Oggi voglio parlarti delle nuove auto che sono arrivate, chilometri zero e aziendali. Farò una breve carrellata e potrai comunque visionare tutti i nostri arrivi e le macchine disponibili sul nostro sito www.novacartauto.it Tutti subito disponibili da noi in sede, Fiat 500X, allestimento Urban, tutte auto chilometri zero, anno 2019. Anche Dacia Duster, questa è una vettura nuova, 1.5 DCI, allestimento Prestige, subito qui disponibile. Nella nostra esposizione esterna troviamo disponibile Suzuki Ignis, è arrivata anche una Suzuki Vitara aziendale, anno 2018, All Grip. Dacia Sandero, 900 TCE, sempre vettura aziendale, sempre anno 2018, appena arrivata anche un'area nome Gun Sport Tour, 1.5 DCI, sempre aziendale, sempre 2018. Auto chilometri zero, Audi A3, Sportback, 1.6 TDI e Micra 1.5 DCI a 100 aziendale. Kilometri zero, Volkswagen Up, 500X, sempre allestimento Urban e nuovi arrivi Fiat 500S, sempre chilometri zero, sempre 2.0 DCI, anche in colore bianco e breve in arrivo, anche allestimento Lancia. Vetture nuove disponibili, Mitsubishi L200 e i nostri SUV, Kia Sportage, Compass 1.4 Multi Air 4WD 170 CV, disponibili anche delle Lancia Y9. Picanto, subito disponibili in allestimento Active, in arrivo a breve anche GPL, Hyundai Tucson, vettura GPL omologata dalla casa, Opelada. Hyundai i10, allestimento Tech, subito disponibile, qui alla nuova kart. L'aspetto qui a Trecat è nella nostra sede, via Mottarone 7, sulla strada statale Novara Milano. Puoi visitare il nostro sito www.novacartauto.it, potrai anche vedere i nostri video sul canale YouTube, registrarti anche sulla nostra pagina Facebook Autoriparazione Nova Kart. A presto!